Anino Cuciniero, la Virtus Avellino ha comunicato ufficialmente che non ripartirà con il nuovo format dell'eccellenza, che fa tanto discutere e ha alimentato tante polemiche. La Virtus, oltre a format, giustamente i presidenti hanno deciso di non partecipare per l'incolumità dei calciatori, delle loro famiglie e di tutti i tesserati dirigenti che girano intorno al mondo Virtus. Ovviamente il format noi ancora non lo conosciamo, si parla di cose campate in aree, di mini tornei a 5, a 6, a 7, ma al di là di questo che non ci compete, era giusto un'eventuale ripresa, riprendere da dove ci si era fermati e andare avanti. Anche se reputo e ribadisco quello che ha detto la società, non ci sono assolutamente le condizioni. Abbiamo terminato, se non sbaglio, il campionato il 26 ottobre con 2.000 contagiati circa. Oggi giornalmente in Campania superiamo i 3.000, oggi avviciniamo ai 3.000 e si parla di riprendere con un torneo di uffici. Sinceramente la società ha deciso così, io ne sono felicissimo, avrei accettato anche una scelta diversa, ma sono molto più contento così. Il comunicato della Virtus Avellino è stato chiaro, netto, categorico nel ribadire questo no alla ripresa del campionato in virtù dell'epidemia che ancora oggi purtroppo mete vittime e soprattutto in virtù anche di quelle che ci sono le garanzie per i tesserati. Assolutamente sì, hai ragione, non c'è alcun tipo di garanzia, non c'è un solo motivo che possa spingerci a portare a termine questa stagione che poi, ti ripeto, non è portare a termine una stagione, è ricominciarla di nuovo senza sapere la modalità, quante squadre saremo? Si parla addirittura di poter mischiare le campane con le lucane, qualcosa del genere. Non dimentichiamoci che i ristoranti sono chiusi, fare una trasferta oggi con il panino probabilmente perché i ristoranti chiusi, pullman che al massimo, pullman di 54 posti a sedere, puoi sedere 20, 21 calciatori, quindi si dovrebbero prendere due pullman. Fare un ritiro non è possibile, fare un tampone il venerdì con una rosa come la Virtù Savellino 2001, 2002, 2003 e poi tenerli chiusi a casa oppure portare il Covid della domenica è qualcosa di assolutamente impossibile e faccio un plauso alla società che ha deciso di non assumersi una responsabilità assurda e inutile. E' riduce anche dall'esperienza dello scorso anno con il San Tommaso, con quello che è successo che purtroppo ha portato anche alla fine del calcio nel popoloso quartiere avellinese. Un anno dopo si ritrova con la Virtù Savellino in una situazione paradossale, considerando che la Virtù Savellino ha iniziato bene il campionato e ora purtroppo ha detto già no alla ripresa della Tommaso. Infatti l'ho scritto ieri sui social, mi sembra di affrontare il mago di Arcella, buonanima, perché noi l'anno scorso a 10 carri dal termine eravamo in piena lotta per i play-out, probabilmente sarebbero retrocessi, probabilmente ce l'avremmo fatta a fare i play-out, questo solo il signore lo sa, però mancavano 10 carri, 30 punti in palio e siamo stati retrocessi senza se e senza ma oggi, primi in classifica, 4 partite, 10 punti di cui 2 tolti solo al 93, altrimenti 4 partite, putteggio pieno, 12 punti, ci vengono azzerati per ripartire con un format che non si conosce, no. Sinceramente io non ci sto e sono contento che la società abbia deciso così. In queste ore avrà sicuramente sentito anche altri dirigenti di altre squadre, qual è l'orientamento delle società erpine e anche di società della Campania? L'orientamento è misto, ti dico la verità, considera che però ci sono tante società dove, composte da 8-9 persone che contribuiscono, quindi molte teste a ragionare, non è mai semplice metterle tutte insieme, ovviamente ognuno è libero di fare e decidere quello che vuole, ci mancherebbe rispetto alle decisioni, però chi ha deciso di no ovviamente è unanime, il nostro no non è dovuto a non partecipazione, io ho letto comunicati di società che noi stiamo ancora aspettando a Vendicano, partite non giocate, che dicono noi decidiamo di non partire, ma quando siete partiti? Noi eravamo primi in classifica, quindi è una decisione che a malincuore ci pesa tanto, ma è l'unica decisione che va presa, perché oggi conta più la salute dei nostri calciatori, delle nostre famiglie, che andare avanti in un torneo che probabilmente, non so se paragonarlo al torneo d'uffici o a un calcetto a tre senza porta.